La Basilica di Santa Polinari in classe è un capolavoro architettonico di Ravenna che unisce storia, arte e spiritualità. Iniziata durante il dominio ostrogotto e completata nel 549, nove anni dopo la riconquista romana della città, questa basilica è un simbolo potente della romanità ritrovata di Ravenna. La basilica, realizzata grazie al mecenatismo imperiale, rispecchia la tradizionale architettura ecclesiastica con una navata centrale e due navate laterali separate da eleganti arcate. Le proporzioni della chiesa seguono semplici rapporti numerici conferendo all'edificio un'impressione di proporzionalità e raffinatezza. Le colonne di marmo importate dalle cavi imperiali dell'isola di Marmara poggiano su piedistalli ornati, una caratteristica rara che ha giungi un tocco unico al contesto. Le colonne sono coronate da capitelli compositi con foglie di acanto mosse dal vento che si armonizzano perfettamente con le venature del marmo. La disposizione interna culmina in un'abside centrale affiancata da camere laterali absidali creando una simmetria che richiama la chiesa di San Giovanni Evangelista del quinto secolo, un altro importante edificio sacro di Ravenna. All'esterno le finestre sono incastonate in arcate cieche che riflettono il ritmo dei colonnati interni, mentre all'interno l'abside a mezza cupola è decorata con un mosaico rappresentante la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Quest'opera d'arte è accompagnata da figure di Mosè, Elia e dei discepoli con Santa Polinare rappresentato sotto una croce sospesa che accoglie i visitatori. Un altro aspetto notevole della basilica è l'illuminazione. La differente altezza tra le navate laterali e quella centrale ha permesso l'installazione di una serie di ampie finestre a lanterna che riprendono il ritmo dell'arcata sottostante, riversando all'interno una luce intensa che enfatizza la spiritualità e la sacralità dello spazio. Oltre alla sua bellezza architettonica, la basilica di Santa Polinare in classe è un monumento storico che testimonia la continuità culturale e religiosa di Ravenna attraverso i secoli, mantenendo una forte connessione con il suo passato romano e cristiano. La sua realizzazione su un ex cimitero potrebbe anche suggerire un'originale evocazione funeraria, rafforzando il suo ruolo come luogo di culto e memoria. Nella basilica di Santa Polinare in classe, arte, storia e devozione si fondono in un monumento senza tempo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!